Una rissa tra oltrà e tifosi ha portato all'identificazione di 16 persone, tra cui due minorenni. Tutte le persone sono state trovate dalla Digos con i filmati delle telecamere di videosorveglianza e convocate in questura dal questore Pietro Milone, che ha annunciato tolleranza zero. Per 5 oltrà è stata avviata la procedura amministrativa del DASPO. Tutto è accaduto domenica 6 febbraio, al termine del derby Siena-Montevarchi, all'esterno dello stadio Artemio Franchi. Il dopo partita è stato un dopo partita veramente deprecabile, dove si è arrivati alle mani, si è arrivati alle mani tra persone che tifano addirittura la stessa squadra. Nessuno si può permettere di poter decidere, quando una persona entra dentro lo stadio e va a vedere una partita, cosa può e cosa non può fare. Vale a dire se può tifare o non deve tifare, se può fare un coro piuttosto che un altro. Quello che è successo nel dopo partita di Siena-Montevarchi è assolutamente intollerabile. Era da poco finita la partita, quando un gruppo di ultra, rimasto fuori dallo stadio per protesta contro le restrizioni della pandemia, accusato dei tifosi che si erano regolarmente recati alla partita di aver tifato in curva. Dallì la rissa che ha coinvolto 8 persone in tutto. Per loro è scattata la comunicazione di notizia di reato. Per i DASPO potrebbero presto scattare i divieti da 1 a 5 anni.